Ciao ragazze, questo video vi ho infatto direttamente nel mio studio mentre mi sto allenando. Ho deciso innanzitutto di fare i video dell'allenamento di oggi che sto pubblicando su Instagram, ma ho pensato anche di caricarvelo su YouTube. Io una volta a settimana vado ad allenare principalmente i fondamentali squat, stacco, rematore, military press e trazioni. E niente, volevo pubblicarvelo per farvi vedere comunque la concentrazione che metto durante questo allenamento, dato che comunque vado a sollevare grossi carichi, ci vuole tanta 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 concentrazione. Ho iniziato la seduta d'allenamento con un 5x5 di squat, e adesso sto facendo un piramidale di stacco. Oggi mi sento super carica, ieri ho fatto cheat meal, quindi ho mangiato una pizza e una pizza con la Nutella di sera. Stamattina mi sono alzata con una carica pazzesca e non vedevo l'ora di venire in palestra ad allenarmi. Naturalmente, ragazze, le palestre sono chiuse, ma io ho il mio piccolo spazio privato, quindi in automatico ho la possibilità di allenarmi. E niente, il mio allenamento oggi è fondamentale, però in questo mese viene svolto tutto a base di bilanceri e manubri, perché per il momento nel mio studio non ho la possibilità di avere dei macchinari isotonici. Quindi, non vi preoccupate, non entrate in ansia in questo mese, perché se avete comunque dei dischi e dei manubri potete ottenere dei bellissimi risultati, anche semplicemente con questi due attrezzi. Ora, vado ad allenarmi, altrimenti non finisco più. Allora, vado ad allenarmi, altrimenti non finisco più. Allora, vado ad allenarmi, altrimenti non finisco più. Allora, vado ad allenarmi, altrimenti non finisco più. ... 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. La ricerca della forza quindi di aumentare comunque il carico allenante è consigliato fare dei recuperi completi. Di base io, non so come mettermi perché ho un riflesso sugli occhiali, di base io tra una serie e l'altra riposo un minuto e mezzo, due minuti. Poi naturalmente man mano che il carico si alza, se due minuti non mi bastano, faccio anche 30 secondi in più. Comunque quando me la sento riprendo. E niente, io ho iniziato ad allenare i fondamentali a maggio ed ero partita con 50 kg di stacco da terra. E l'ultima volta che ho allenato i fondamentali ero anche arrivata a toccare i 100. Quindi sono molto 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 importanti. E quello che ho capito in questo mese, che in questi mesi, che allenare un giorno solo i fondamentali è veramente importante anche per una questione di miglioramento comunque fisico, anche a livello estetico. Perché gli esercizi fondamentali fanno un gioco a livello neuromuscolare che è assurdo. E anche perché ricordatevi che modellare il fisico comunque lo fanno di base agli esercizi fondamentali come lo squat, lo stacco, gli affondi, il rematore, il lip thrust. Il restante degli esercizi come gli slanci, l'abductor machine, sono tutti esercizi di contorno per andare a concludere l'allenamento e arrivare a sfinire il muscolo. Ma di base gli esercizi principali rimangono sempre i classici fondamentali. classici proprio ragazze, il base, il base è la parte più importante. questo padre è un bosque dove si risponde di gemacht, sono gli scetti che sono stati Non mi consigli, mai d'arvi, se è un piede a fare diamanti, uscanti come amanti, e che non erano fidati e fingendo temati. Sì, questo è un piede a fare diamanti, uscanti come amanti, uscanti come amanti, e che non erano fidati, se non erano fidati, è un piede a fare diamanti, uscire il piede a fare diamanti, e che non erano fidati. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.